L'incontro c'è stato come previsto durante la riunione catanese che è servita a formalizzare l'adesione dell'ex deputato regionale. Pino Federico ha visto il presidente della regione nello musumeci, leader politico di Diventerà Bellissima, il movimento al quale ha scelto di aderire insieme al consigliere comunale Gabriele Pellegrino. Si è parlato di progettualità per il territorio, lo spiega lo stesso Federico. È stato musumeci a dare garanzie politiche sull'adesione di Federico con il quale il rapporto pare decisamente consolidato già dai tempi dell'Ars. L'ex deputato ribadisce che la scelta di Diventerà Bellissima non è comunque finalizzata ad un'eventuale candidatura. Sta invece cercando di mettere a disposizione della città i suoi rapporti istituzionali strutturati nel corso dell'attività svolta. Federico sembra volersi ritagliare un ruolo importante come riferimento locale di musumeci nonostante i rapporti sempre molto tesi con il sindaco Lucio Greco. I contrasti con l'avvocato però secondo l'ex deputato non possono incidere sui rapporti istituzionali tra l'amministrazione comunale e il presidente della regione che anzi devono proseguire soprattutto a garanzia di progetti e investimenti per la città. Federico ha avuto interlocuzioni in questi ultimi giorni anche con il commissario cittadino del movimento Michele Orlando e con altri componenti locali del gruppo di musumeci. Il movimento si sta organizzando in vista del tesseramento e del congresso. Federico sembra comunque puntare molto sul rapporto politico con Musumeci adesso ufficializzato dal passaggio a Diventerà Bellissima così da diventare un punto di riferimento a livello locale.